legnaia, vediamo un po' com'è prima volta, quindi non mi giudicate non mi giudicate penso che sto sbagliando tutte le lini però mi piace ora già arrivarci forte un bel doppietto oh sono cotto sono a 43-44 km un bello cotto mamma mia anche qua una pietra c'è mamma mia ragazzi ho cotto wow wow